Il mio compito, il compito delle persone che lavorano con me, è quello di fare in modo che ci siano le condizioni affinché i cittadini possano esprimere le loro capacità, i loro talenti, possano vivere in serenità, possono guardare al futuro con fiducia. E per costruire un futuro di fiducia non dobbiamo ascoltare solo gli adulti, dobbiamo ascoltare anche i bambini, perché voi siete il futuro del nostro paese e quindi noi dobbiamo essere capaci di coltivare la vostra crescita, dobbiamo essere capaci di aiutarvi a fare il vostro percorso, di aiutarvi a valorizzare i vostri talenti, le vostre capacità, le vostre passioni, la vostra energia. Noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi perché il nostro compito a un certo punto termina e noi dobbiamo passare il testimone e dobbiamo cercare di passarlo a delle persone che sono preparate a raccogliere questo testimone. Vi ringrazio per quello che avete fatto finora, ci impegneremo a starvi vicino, vi chiedo di continuare con determinazione a credere in quello che fate perché in questo modo voi state costruendo un futuro migliore per la vostra città ma soprattutto un futuro migliore per voi. Grazie.